... Sì, perfetti, diretta di interno, sono le... Oh, non c'è tempo! Oh, non c'è tempo! Non c'è tempo! Eh, non c'è tempo! Perfetti, diretta di interno, no! Perfetti, diretta di interno! Questa è la strega, è la lunga spinge! Questa è la strega, è la strega! Questa è la strega, è un'altra polizia, finché non si fa, questa è la strega. È una fede, che è e un'altra polizia ma fatti, un'altra...! Guarda, di quanto fermo! Attenzione, guarda, un punto in palavra, uno sicuro invece deve passare. È un'altra testa... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.